Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, intro che ricorda un po' le vecchie origini però vi annuncio questo velocemente nel video di oggi, carpe come non l'avete mai visto e come l'avete letto dal titolo guardate il video, lasciate like perché, cazzo cioè, quante altre persone l'hanno fatta sta roba commentate e ditemi magari qualcos'altro da provare perché in questa stagione, ovvero il prefrega, la carpa è molto attiva e come vedete mangia un sacco e soprattutto cerca cibi grandi e sostanziosi tipo gamberi, tipo anche piccoli pesci perché si sta preparando alla frega e quindi deve assumere molte calorie e comunque la femmina ad esempio deve creare le uova quindi ha bisogno di energie e quindi è il momento migliore per cercarle con esche strane dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti superiamo 150 like per un mega video del genere e dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla superiamo 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 Grazie per la visione Grazie per la visione a rana bello tira bella carpone a rana posso fare tutto a rana ragazzi ormai ho preso una carpa figuriamoci buona bella carpotta bella bella carpotta sono un pro ormai con la rana avete mai visto fare qualcuno una carpa a rana ora si bella anche l'Italia vieni qua guardate proprio in punta calma questa è anche una bella femminona peserà anche vai la carpa a rana mi mancava però ce l'abbiamo la carpa a rana guardate ok guardate guardate Porco schifo E' no se spaventato Non è più diventata una ricerca siluro Anche perchè non ne ho visto neanche mezzo Attacco Non ho visto neanche mezzo attacco in effetti Quindi Un po' duretta La ce n'è un'altra Il problema è La mangiata Perchè comunque ne scatta da 4 pollici e mezzo Non è insieme a farle mangiare Perchè lo mangiano Sono una ricerca di cibo Bello proteico Non è insieme Il ferrare è il momento giusto Allora Arriviamo piano piano In modo che non si accorga Presa Perfetta Devo dire No Perfetto Perfetto Mi porto fuori Non ho neanche guardato la mangiata Oh bella sta carpa Bella Bella Non l'ho neanche sentita mangiare Cioè vi ho dato proprio a sentimento Bella Bella Oh stavolta che ho L'attrezzatura giusta Vicky Shad Verde fluo Adesso è fin facile Guardate che lo allungo Ok Ok Molto meglio Dai Vieni su Vieni su Dai 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 La c'è un'altra carpa tra l'altro In mezzo al canneto col boss del 20 20 Un bel pesciotto eh Non molla Non molla Non molla Dai È da Danna tanto è più difficile C'è anche Arrotolata col filo Sulla pinna Non buona Aspetta prima che mi vado a tagliare Il filo Sullo scafo Vieni su Era presa Sembrava morta Adesso ho tirato fuori tutte le energie Olla Guardate che pescione Cioè pescione Parla di 5 kg di pesce Tondissimo Guardate qua Vicky Shad È tonda È una palla Una palla da football Adesso andiamo a liberarla La rilasciamo La rilasciamo La rilasciamo She circuito